La tecnologia per il sociale l'idea al centro del Social Innovation Campus di Fondazione Triulza che si svolge al Mind di Milano nell'area Ex Expo. Qui per due giorni studenti delle scuole superiori, ricercatori e start-up si confrontano e presentano i loro progetti. I studenti del corso hanno sviluppato in un arco di tre mesi questi oggettini che possono essere per la riabilitazione piuttosto che per ottimizzare delle endoprotesi diversi contesti, tutti finalizzati a far capire che noi possiamo veramente progettare da zero un qualcosa che può avere una funzionalità reale nella vita di tutti i giorni. I protagonisti sono i giovani con le testimonianze di chi ha avviato start-up finalizzate al sociale e alla sostenibilità. Ho collaborato con un'azienda sempre del torinese che si occupa in particolare nell'ambito sanitario-terapeutico di psichiatria e quindi di riabilitazione cognitiva e quindi gli utenti in questo caso sono pazienti con problematiche psico-cognitive che sono seguiti in percorsi di riabilitazione. Agli studenti è lanciata la sfida, lo sviluppo di un progetto tecnologico che tenga conto dell'impatto sociale e sostenibile. Questo sia uno degli ambiti più importanti che in questo momento dobbiamo affrontare soprattutto perché siamo ragazzi giovani e dobbiamo dare una spinta a iniziare a capire che possiamo anche noi dare l'esempio e cambiare qualcosa.